Ciao giovani, bentornati sul canale di Enzo. Dov'è la telecamera qua? Bentornati sul canale di Enzo e da un po' che non ci vediamo. Ogni tanto vi passo a trovare, però ogni tanto vi passo a trovare. Sono molto impegnato ultimamente, ragazzi, molto molto impegnato in tanti progetti musicali e non, però, ripeto, ogni tanto vi passo a trovare. Allora, è uscito, come già sapete tutti, è uscito da Subcontedua due ritorni molto molto graditi. Tedu, vabbè, manca da sei anni, quindi ci fa veramente tanto piacere. E da su prima anche, lo sapete, è un tipaccio che... ci sta, ci sta. Che faccio? Ce lo sentiamo subito? Dimmi che c'è, si chiama il pezzo. Dimmi che c'è, questa è la cover. Si vede una minchia, non si vede una mazza. Vabbè, sentiamocelo subito. Vai, DJ, alza il volume. Sentiamo, sentiamo. Già mi piace. Bella, vi piace. Classico da su, classico da su. Tanto sto leggendo il testo, putzio. Vai, vai, Tedu. Vai, vai, Tedu. Che strofa. Bellissimo. Bella, bella. Che coppia. Che coppia. Fantastici. Bellissima, ragazzi. Ragazzi, io voglio un disco Tedua con da su primo. Ci stanno troppo bene insieme. Comunque Tedua ha fatto una strofa troppo superi... Cioè, proprio... Mamma mia, mamma mia, mi è tornata voglia di... Vi dico la verità, a me mi è un po' passato quell'hype per Tedua. Sto passando veramente troppo tempo all'uscita del suo disco. Quindi mi sta un po' passando quell'hype che c'era all'inizio. Ovviamente lo aspetto. E sta canzone, guarda, io spero sia un preludio all'uscita del suo disco. Tra l'altro non so se è stata annunciata qualche data. Non so niente, ragazzi. Non sto capendo più niente. Sono uscito dalla realtà. Sono completamente chiuso nei miei progetti. Quindi sto ascoltando pochissimo. Anche le notizie che non mi sta arrivando niente. Quindi, casomai, scrivetemi nei commenti qualche nuova... Qualche anticipazione. Se sta per uscire il disco di Tedua, che io lo aspetto. Soprattutto dopo la strofa che ha fatto in questa canzone con Dasup. Dasup, vabbè, sempre lui. Però la vera sorpresa è Tedua. A parte per il fatto che mancava da tanto, ma soprattutto perché ha fatto una strofa fuori di testa. Bellissima. Sia melodicamente, sia metricamente. Sia il testo. Dieci. 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 Bellissima. Continua così, Tedua. Continua così, eh. Continua così. Beh, ragazzi. Dopo di questa, che vi devo dire? Vi saluto. Ci vediamo alla prossima reaction. Mi raccomando. Iscrivetevi al canale. Altrimenti... Altrimenti niente. Ciao. No. No. Grazie a tutti.